A seguito della mozione che abbiamo votato in Consiglio Comunale a fine febbraio abbiamo esposto uno striscione che chiede verità e pace in Siria, perché abbiamo notato che dal punto di vista delle informazioni nulla ci arriva, i telegiornali sono silenti, in rete passa poco e invece noi vorremmo dare e mantenere alta l'attenzione su quello che accade in un luogo che, seppur distante da noi, comunque ha una rilevanza internazionale. In Siria infatti, secondo stime ONU, 9.000 morti ci sono stati durante questa guerra civile che è iniziata da un anno ormai e purtroppo la comunità internazionale non riesce a fermare quello che è un massacro continuo. Ora, noi speriamo che attraverso anche le nostre iniziative e attraverso la volontà dei singoli di informarsi, di generare un po' un diverso clima d'opinione per riportare attenzione e chiedere maggiore verità su quello che sta accadendo in Siria.